allora diciamo che sono qui con questo con questa assieme e io vorrei trovare il gioco che c'è tenendo conto del mobile based definition che ho fatto su questo ok cioè alla fine ho dato una perpendicolarità di 0 3 e il 20 è più 0 6 più 0 5 ok a questo punto questo qui invece vado su questo ok sempre col mobile base definition dimension definition ok mobile base design vabbè come come definisce nel mobile definisce ho dato un 20 più 00 meno 0 1 più un inclina è una perpendicolarità di 0 2 adesso io vorrei sapere il gioco se tengo conto solo delle dimensioni della size a questo punto il gioco sarà 0 7 ok il gioco massimo il gioco minimo sarà 0 5 giusto perché il gioco massimo gioco minimo vuol dire che sono su 20 l'altro il minimo sono sul 25 a questo punto 0 5 poi se divido sul raggio e sarà 0 25 ok perché io poi cercherò di misurarlo sul raggio con mobile base definition adesso non mi ricordo se definiscono vabbè è con la mbd vabbè adesso però io c'ho un problema che qua mi si blocca adesso cos'è comunque io cos'è che faccio chiudo qui andiamo a vedere e faccio in questo modo qui vado a qui clicco qui mi sposto o qui però contro a perché strumenti devo andare a fare le aggiunte se no tol analyst ok e lo carico ok allora a questo punto una volta caricato questo funziona dunque vado sul studio tol analyst allora lui mi dice misura da io prendo questo ok e poi gli dico questo qui però non possiede dati di expert ok perché giustamente giustamente dunque devo fare tasto destro e vado in altra selezione altra selezione io vado a vedere quella la sulla parte 4 parte 5 a 0 0 2 e dunque segno questa qui ok metto max max ok naturalmente io metterei che n per me normale va tutto va bene tutto e dunque metto normale ok dovrebbe andare bene tutto a questo punto è definito perché se no potevo mettere x io di solito metto il però dovrebbe funzionare anche così vado avanti la assieme in tolleranza dunque metterò prima questo vale penso che sia indifferente e poi faccio aggiungi vado avanti a questo punto gli metto questo come primo ok perché la concentra città e poi vado avanti a questo punto io non avendo le tolleranze di orientamento sono giusto no nel senso che diviso due avevamo fatto i calcoli poi qua c'è anche quello statistico però vabbè worst case è 0 35 come avevo detto e 0 25 dunque 0 7 0 adesso io se piccoli tolleranze di orientamento si blocca io metto questo qui e qui non cambia niente poi metto fissaggi e pin mobili adesso vediamo e qua mi si blocca e anche il 20 24 si blocca così provato più volte si blocca sempre ci vediamo alla prossima rivederci e adesso dove vado a a bloccare il video qua